Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo video volevo invitarvi ad andare in biblioteca a a a prendere in prestito questo libro che è favoloso, mi piace un sacco che parla della storia di Sui Savoia e sono varie biografie illustrate e questo qui è Sui Savoia ringrazio molto mia zia Lina per avermelo regalato è molto bello parla degli inizi, dei primi ducchi all'unità d'Italia al fascismo e di anche varie principesse insomma di tutto ciò che c'entra con i Savoia della guerra civile spagnola di Edoardo Liberale è stupendo di Umberto II è un libro veramente bello anzi un libro in realtà sono due due capitoli il primo parla più di po' dei di Savoia prima dell'unità d'Italia mentre il secondo parla dell'unità d'Italia della prima guerra mondiale del fascismo principalmente ma in questo video è tutto io vi invito ad iscrivervi al canale e a mettere mi piace al video ciao ciao